Basta con gli schiamazzi, alla musica ad alto volume e alle russe tra giovani ubriachi. Nella movida di Villammare hanno fatto irruzione le ronde notturne. Dalla notte di San Lorenzo, gli agenti dell'Istituto di Vigilanza Torre girano per le vie e i locali indivise e armati, ricordando a tutti le regole del buon vivere. Entrano in servizio alle 23 e tengono sotto controllo la rinomata frazione rivierasca fino alle 5 del mattino. Nei casi in cui si verificheranno episodi che mettono a repentaglio la sicurezza pubblica, i vigilantes dovranno chiedere l'intervento del locale comando di polizia urbana o dei carabinieri per eventuali arresti o denunce. Le ronde notturne arrivano dopo una serie di scontri tra ragazzi per lo più minorenni in preda all'alcol. Nei giorni scorsi una famiglia di villeggianti ha lasciato il paese a seguito di una rissa. A tutela della quiete pubblica, l'amministrazione comunale ha così deciso di attivare il servizio di vigilanza notturna fino al 25 agosto.